Benvenuti ad Anteprima Cinema. Dopo il trailer di oggi vi aspetto per le notizie di cinema. Iniziate l'avventura e condividete l'esperienza. A febbraio la saga epica ritorna in 3D. Per i fan di cartoni animati, la Disney regalerà un corto prima della visione di La Bella e la Bestia in 3D, che uscirà in lingua originale il 13 di gennaio. Lo short movie si chiama Tangle Ever After e sul web si può vedere una breve anteprima molto molto divertente, per gentile concessione di Yahoo. Knock Out, il prossimo film di Steven Soderbergh, è totalmente incentrato sulla campionessa di arti marziali Gina Carano. L'attrice interpreta Mallory Kane, una spia addestrata che viene tradita dai suoi superiori. Scampata a un tentato omicidio, Mallory progetterà la sua vendetta. Il cast è anche con Ewan McGregor, Michael Fassbinder, Channing Tatum, Antonio Banderas, Michael Douglas e Bill Paxton. Esce in lingua originale il 20 gennaio ed in Italia il 16 marzo. E per oggi è tutto, a prestissimo Dante Prima Cinema!